Pronto? Chi è? Buonasera, sono Teresa, chiamo dall'ufficio Prevenzione Frodi per la carta Nexi, parlo col signor Macchiati Matteo Oh porco, sì, sì, sono io Sì, chi è? Ufficio Prevenzione Frodi per la carta di credito Nexi, è il signor Macchiati Matteo? Ufficio Prevenzione Fro... chi? Come? Fro? Non ho capito Frodi per la... allora Ah, Frodi! Scusi, avevo capito... sì, sì, mi scusi, avevo capito con... avevo capito la... avevo capito la... avevo capito la C a posto della D, scusi Mamma mia, scusi, mi avevo capito male Sì, mi dica Allora, sta utilizzando lei la carta Mastercard di... Sì, 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 sto usando io, sì Ok, va bene, posso, era solo una verifica Ah, ok, ma posso continuare a comprare oppure devo... Può continuare a comprare, esatto Grazie, grazie mille, arrivederci, grazie, ciao, ciao, grazie